La prima cosa che dico a Roma è che io sono nato a San Severino Marche, su questo non c'è dubbio, io la mia terra l'ho sempre amata, sia nel bene che nel male. È proprio l'amore per la sua terra che porta Luciano Gregoretti, classe 1928, 87 anni, il prossimo 4 luglio, ad accettare la proposta della Fondazione Claudi di esporre le sue opere e soprattutto la sua vita a Serra Petrona. Non avrei mai pensato che a 86 anni mi potesse capitare una cosa del genere. C'è stato un incontro che ha deciso tutto. L'incontro è stato con il professor Ciambotti, che è presidente della Fondazione Claudi di Serra Petrona, che ci siamo conosciuti, ci siamo stimati. Dopo due o tre anni lui è venuto a casa a Roma, si è informato su chi ero. Se vogliamo fare una mostra retrospettiva, io accettai volentieri. Poi dopo qualche minuto, girando per casa mia a Roma, ha detto, dice, ma che mostra retrospettiva? Noi facciamo la mostra sulla tua vita, perché tu hai fatto un sacco di cose. Unendo le arti, perché un direttore della RAI, che è anche poeta, ha fatto una poesia su di me e lui ha usato la frase che io unisco le arti. In questa mostra ci sarà la mia vita, i manifesti, la mia vita, da giovane, le corse, la barca che ho fatto a Palermo, i tre anni che ho fatto al Sistina come aiuto di Giulio Colcellacci per Garinei e Giovannini. Ci sarà il cinema, l'Accademia di Belle Arti, i miei quadri, le mie sculture e di tutto un po'. La mostra rimarrà aperta fino al 13 settembre, ma intanto Gregoretti sta già lavorando su un progetto futuro. Io mi auguro di avere la possibilità di vivere ancora un po', perché sto scrivendo già da un anno un libro biografico su tutta la mia vita, ma proprio anche quella degli anni venti che non mi appartiene perché non ero nato. E così le racconterò e spero di pubblicarlo quanto prima.